Marco, ma che ti senti male? Su, 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 che mi devi fare un favore, vieni qua, vieni qua, vieni qua, alzati, vieni qua. Appenta, c'è il colo un pigro. Dai che ti devo dire una cosa, un favore che ti devo chiedere, dai, vieni un attimo qua, su. Marco, senti, ti voglio dire una cosa. Allora, mi sembra di averti, insomma, in qualche modo dato una mano in questi giorni in televisione. Ma l'ho ammesso. Qualche cosina te l'ho insegnata, no? E, senti, già che ci sei di persona fisicamente e con la testa, volevo chiederti una cosa. Non so neanche come fa, dittelo, perché per me è imbarazzante, però è una cosa che c'ho dentro, te lo volevo già dire fin dall'inizio. Prova, dimmi. Allora, saprai che per noi comici, no, per un comico, il sogno è quello di fare l'attore drammatico, no? Di interpretare il cattivo, questo, cioè, tutti i comici se glielo chiedono, loro cosa vuoi fare? Il cattivo. Non è che mi potresti dare una mano a insegnarmi qualche tecnica, magari faccio dei provini dopo, capito? Allora, dice, lei ha già fatto il cattivo. Dico, sì, ma ha insegnato Cialdini, capito? No, ha insegnato Cialdini, magari no, però che intendi? Intendo che, te per esempio, no, te già quando apri bocca, sei già dentro il romanzo criminale, già da come ti esprimi, sei cattivo, duro, sei spietato, capito? Te non la devi neanche fare la minaccia, a te ti basta un verso per mettere paura la gente, no? Dici, dici, fa bene esempio. No, un verso, tipo una frase tipica che dite voi romani. Au, sta città tutta un buco. No, 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 l'altra, l'altra, proprio l'inizio, au, au, solo au. Te basta au, te quando dici au con quella voce, c'è dentro tutto la minaccia, l'intimidazione, la cattiveria, capito? Eh, sta sento, però già, che non è solo la voce, attenzione, è non attitudine. Voglio dire, a fine la puoi imparare pure te. Dici, eh? Dici che posso imparare? Come no? Bene, sono proprio contento. Allora, senti, non è che magari mi dà una mano, mi insegni qualcosa, insegnami qualcosa, dai Marco, non è che ti devo pregare. Cioè, dico, tu mi stai chiedendo una lezione di cattiveria. Esatto. Non capito. Tipo, bravo, capito. Ho qua la gravatta. Vabbè, che c'è? Non la posso slacciare. Vabbè, vabbè. Ci potremmo provare. Ci proviamo. Ci possiamo provare. Proviamo. Per tutta l'Italia, ci possiamo provare. Così, la gravatta un po' aperta, un po'. Un po' aperta, già dopo matrimonio, dearsi, capito? Ebbiva gli sposi, tipo così. Ok. Allora. Allora. Vogliamo dire? Spoggio l'inglese. Lesson number one. Attenzione. Non importa che fai sti gesti, però lo capisco uguale l'inglese. Ok. Eh, lo so. Lo so che sei padrone della lingua. Levate qua l'atteggiamento da barba papà. Gambe shorte. Shorte. Le gambe shorte. Inarcati all'indietro. Non troppo. Non troppo. Non troppo. Sei ancora barba papà. Dai, dai. Così va bene. Così è troppo, te spessi. Ecco, così. Perfetto. Perfetto. Ce la presenta il giaguaro? Che fa il giaguaro? Che ne so. Dico il giaguaro, ce la presenta? Ce la presenta sì. È tipo un puma. La punta. Bravo. Punta la preda del giaguaro. La preda lo guarda e dice a vedere il giaguaro. Dice la punta. È rilassato il giaguaro. Sta così. Come mi passavo qui così, per cavoli mia. Se sta guardando. Però, bravo. Però pronto? Pronto a scattare. A scattare. A scattare. Allora. Tieni la posizione. Reclina. Reclina leggermente con l'occhio sempre dritto. Lo sguardo, lo sguardo, come adesso. Così, come dire, te guardo, ma non te guardo. Come sarebbe te guardo? O te guardi o non guardi? Non ti esci, tu, te seppoguardami, ti ha paura. Te giuro. Vero? Così. Un attimo mi hai dato. Te guardo e non te guardo. Non te guardo. Non te guardo. È l'atteggiamento. L'atteggiamento. Ok. La postura ci esimo. Lesson number two. E dico two. La gestualità. Attenzione, il gesto parte con un movimento idraulico. Cioè, proprio una situazione tipo forcella. Si protende verso l'altro e mentre se protende, pure a distanza, si trasforma in minascia. Vai. Tipo. Ma che ce l'hai con me? Ma che ce l'hai con me? A pompa. Bravo. Che ce l'hai con me? Ma che ce l'hai con me? Come te senti? Il braccio un po' mi fa male a fare così, però va bene. Tipo slogato. Tipo slogato. Allora è perfetto. Allora così. Così. Ti guardo, ti guardo. Ma che ce l'hai con me? Piano, piano. Ma che ce l'hai con me? Se non te l'hai rompito davvero. Allora. Lesson number three. No? Lesson number three. La frase. La frase del vero cattivo. Non è mai compiuta. Non c'è il punto. Capito? Stanno i puntini. Cioè, la devi lasciare sospeso. È l'intimidito che deve trovare il finale. Dice. E ora questo che fa? Hai capito? Deve completare il ragionamento dentro la sua testa e questo che fa? Fa crescere l'angoscia. Hai capito? Ascolta. Oh! Sai che bella vince? Eh? Ma fammi capire. Oh! Eh? Ma che davvero, davvero? Ma che davvero? Ma fammi capire. Ah, giù. Oh, un indizio. Dagli un indizio. Ma oh, ma oh, ma che, ma che, ma che, ma che te, oh, ma te pensi che quando vieni qua, ah, eh, fai, oh. Ma vabbè, 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 comunque pare che hai capito. Attenzione, ultimo passaggio, ultimo passaggio, ma non meno importante è il soprannome. Soprannome? Eh sì, come dicevi prima. Ok. È il terribile. È il terribile. Già, arriva il terribile. Già, io quando dicevo nel film, gli dicevo, arriva il terribile, tutti, mamma mia. Tu, perdita, che soprannome ti senti così in amicizia? Ora così, ho appena cominciato. Qualsiasi, vai. A essere criminale, direi, il preoccupante, cioè troppo. Allora, dai, arriva il preoccupante, tutti arrivano a dire, ah, è vero, è vero. Se aspettano che racconti la barzellita. Vero, il toscano, come lo vedi, il toscano? Beh, devo dire, la polmata mezzo sigaro ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Io te lo do io, il soprannome, fammi per stato un secondo. Dai, dammene uno bello. Ecco, ce l'ho. È però stata. Senti che roba. Arriba. Ah, sta arrivando a prostata. Ma com'è? Cioè, tu dici che io, arriva, arriva, arriva il posto. Arriva uno con la moto, tipo, a di 70. Si levano. A di 70, mette il cavalletto, ma, ma sai chi sta arrivando? Ah, stanno a giocare prima, tipo, sempre, mortaggio. Ma come si fa? Io, ma che posso fare ora io, un film, a un provino, ma si è chiesto? Sono il prostata, non mi piglia se... Dimmi un po', dimmi. Ah, già lo so. Ma io, ma che davvero, te, ma io sono il prostata. Ma io, che voglio sapere lo fa? Sono Piero di te. Grazie. Sono Piero di te. Quindi posso andare? Ma in attimo mi hai destabilizzato. Posso andare ora? Certo, vai. Vai, vai, Gio, spaventa il mondo. Se voglio fare un provino... Almeno ringrazio. Oh, grazie. Grazie a te. Grazie. Sono il prostata. Ateribile, se vedremo, te saluto il prostata. Ciao, bro. Ti metti paura? Portasci, tua. Ciao, bro. Io sono il prostata. Cioè, c'è poco da fare. Oddio, che è? Au. Au. Ma che c'è stata a fa' qua? Mi sembra barba papà dopo un incidente. Au. Ma sapete chi sono io? A me nel giro mi chiamano il prostata. Hai capito? E questa è zona mia. Ve ne dovete dannare. Non mica che... Mi fa una paura. Ma chi? Lui? No, la cravatta. Guarda che schifo. Ma che è? Non si può guardare. Au, ma io ve l'ho riconosciuto a voi due, sa? Io ve l'ho riconosciuto. Lui è Dante e te sei freddo perché noi fra i criminali si capiamo. Hai capito? Ma ditemi un po' una cosa. Ma voi, quante ne avete fatti fuori nella vostra carriera criminale? Ditemi un po'. Dici da qui fino a stasera? 199. Ah, certo, 199. Però se continui a fare così può essere che arriviamo pure a cifra tonda. Che dici? Ah, 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 ah! A me non mi fate mica paura, sono giaguaro, capito? Quante macchine avete bruciato voi nella vostra carriera criminale? Sentime un po'. Beh, ma pare che l'ultima l'hanno bruciata proprio qua fuori, sì. Sì, una famiglia are nera targata a Firenze. Quello c'è il T-Lega? Sì. Ma è mamma mia, la mia, io lo sapevo. Io ce la dovevo lasciare davanti agli studi, questa roba.